Ok, vi metto l'olio. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Antonella. Ciao Antonella, ascolta, dove utilizzi l'olio extravergine d'oliva? Io solitamente lo uso per struccarmi, per togliermi i residui di trucco, perché è molto evoliente, molto liscio, con un po' di cotone mi va via tutto. Funziona molto bene? Funziona molto bene, sì, lo consiglio. Grazie molte, grazie. Grazie a tutti.